probabilmente a nessun altro filosofo più che a giulio cesare vanini si attagliano le splendide parole che egel utilizza nelle lezioni sulla storia della filosofia allorché parla di eroi della filosofia giulio cesare vanini proprio come giordano bruno è stato nella modernità il più grande eroe della filosofia colui il quale ha testimoniato pagando con la vita la propria libertà di pensiero e la propria missione di ricerca della verità lucilio vanini che firmò sempre i suoi lavori come giulio cesare vanini nacque a taurisano nel salento oggi in provincia di lecce nel 1585 era figlio illegittimo dell'anziano funzionario di origini liguri giovanni battista e della nobile donna spagnola beatrice lopez de noguera erano gli anni dell'imperatore carlo quinto dominatore anche nell'italia meridionale spagnola e taurisano era al tempo una città assai povera come del resto tutto il mezzogiorno nel 1599 giulio cesare vanini si iscrive alla facoltà di giurisprudenza a napoli tuttavia dopo la morte del padre avvenuta nel 1603 è costretto ad abbandonare gli studi per carenza di fondi e allora o entra nell'ordine carmelitano con il nome di fra gabriele nel 1606 vanini si laurea in diritto civile e canonico conseguendo a napoli il titolo di dottore in utroque iure adesso vanini è a tutti gli effetti assimilato a una grande cultura parla benissimo il latino a competenze giuridiche filosofiche e religiose nei due anni successivi vanini vive nell'area di napoli e stabilizza la propria condizione economica vendendo alcune case di sua proprietà nel 1608 vanini è trasferito in un monastero di padova e ne approfitta per iscriversi alla facoltà di teologia dove apprende e perfeziona i suoi studi filosofici e teologici l'esperienza padovana è assai importante per la formazione di filosofo ed eretico di vanini si dedica molto allo studio di averroè tra gli autori più scomodi per il canone occidentale e di girolamo cardano considera come proprio maestro l'aristotelico mantovano pietro pomponazzi che nel suo famoso trattato aveva negato l'immortalità dell'anima padova a quel tempo era parte della serenissima repubblica di venezia e in quegli anni dilagava la polemica tra lo stato veneziano e papa paolo quinto interessato ad assoggettare la repubblica alla propria autorità vanini senza esitazioni si schiera dalla parte di venezia contro il papa e poi entra anche a far parte del gruppo del celebre frate paolo sarpi che aveva scatenato il conflitto antipapale appoggiato dall'ambasciata inglese nella città e che meditava di far passare padova alla riforma e quindi al verbo luterano nel gennaio del 1612 per via delle sue attività antipapali vanini è costretto ad abbandonare padova si rifugia a napoli nell'attesa di misure disciplinari da parte dell'ordine carmelitano vanini fugge poi a bologna e in qualche modo abbandona l'idea di trasferirsi a napoli dove si sarebbe dovuto rifugiare ebbene a bologna trama relazioni segrete con gli ambasciatori inglesi per passare in gran bretagna dopo non molto tempo con un suo confratello riesce a fuggire in inghilterra attraverso la svizzera la germania l'olanda e la francia e infine giunge a londra e a lambet qui rimane per due anni nascondendo la propria identità anche all'arcivescovo di canterbury nella chiesa londinese dei merciaio degli italiani alla presenza di francesco bacone vanini e il compagno d'ordine di fuga genocchi ripudiano pubblicamente la fede cattolica per abbracciare quella anglicana naturalmente questa abdicazione non passa inosservata a roma e all'autorità cattoliche che già erano state allertate circa la possibilità di fuga di paolo sarpi ormai privo di protezione del doge la chiesa aveva paura di una possibile ricostruzione in terra protestante del fronte antipapale veneziano e a quel punto sollecita il nunzio apostolico di parigi per sapere qualcosa in più sui due frati rinnegati e fuggiti in inghilterra e però mentre l'inquisizione già prepara un processo contro di loro i due frati si pentono e inviano lettere a roma per ottenere la riammissione nel cattolicesimo non più come frati ma come sacerdoti tra il 1613 e il 1614 viene resa nota alle autorità inglesi la loro revisione e il loro progetto di fuggire dall'inghilterra diverse ambasciate straniere si attivano nel favorire la loro fuga suscitando scandalo nel re e nell'arcivescovo e a quel punto vanini e genocchi vengono arrestati in seguito alla fuga dell'amico si acquisce la misura persecutoria contro il filosofo vanini che viene rinchiuso nella torre di londra ove rimarrà per 49 giorni mentre gli inglesi preparano il processo contro di lui rientrato in italia vanini vive a genova e insegna la filosofia ai figli di giacomo doria e però riprende presto la via dell'esilio allorché l'inquisitore genovese fa arrestare l'amico genocchi e per paura che gli accada la stessa sorte vanini abbandona l'italia fuggendo in francia nel 1615 lo troviamo a lione e a giugno pubblica la sua opera anfiteatrum eterne providenzie divino magicum tradotto in italiano l'anfiteatro divino magico dell'eterna provvidenza scrive quest'opera per difendersi dalle accuse di ateismo ma è ulteriormente accusato in questo caso di panteismo l'anno seguente 1616 pubblica l'altro suo testo fondamentale de admirandis nature regine deque mortalium arcanis i meravigliosi segreti della natura regina e dea dei mortali l'opera viene pubblicata a parigi con il supporto di due teologi della sorbona che ne autorizzano l'uscita editoriale l'opera viene accolta bene dalla nobiltà francese da che il manifesto degli spiriti forti che guardano con ammirazione alle innovazioni culturali e scientifiche che giungono dall'italia e però le autorità cattoliche avverse alle innovazioni accusano ancora una volta vanini e la sua opera viene revisionata e in questo caso condannata a rogo dalla sorbona come eretica e poi la congregazione dell'indice pone l'opera di vanini nella prima classe degli autori proibiti senza ufficiali misure contro la sua persona vanini viene comunque escluso da molti ambienti della società francese per via della condanna a cui era stata sottoposta la sua opera e così troviamo vanini che va peregrinando per diverse località della francia meridionale protetto da numerosi aristocratici amanti degli spiriti forti ai quali vanini offre l'istruzione per i figli vanini va girovagando per la francia fino ad arrivare a tolosa e qui viene arrestato il 2 agosto del 1618 per sapere quali siano le sue idee in materia di religione di morale si tenta di condannarli in ogni modo convocando anche molti testimoni senza però riuscire ad accertare nulla il 9 febbraio 1619 il parlamento di tolosa si badi il parlamento non la chiesa condanna vanini per ateismo e bestemmie contro dio vanini è abbandonato da tutti gli amici più fedeli ed è incapace di difendere il suo passato travagliato sicché deve affrontare con dignità la sua pena rifiutando l'assistenza di un prete e andando serenamente a morte gli viene attribuita la famosa frase andiamo a morire allegramente da filosofi gli fu tagliata la lingua schopenhauer dirà che a vanini era più facile tagliare la lingua che confutarlo venne strangolato e infine il suo corpo fu bruciato aveva appena 34 anni e questo basta a fare di lui come già dicevo un eroe della filosofia vanini viene considerato generalmente uno dei padri del libertinismo il re dei libertini italiani egli è influenzato dall'aristotelismo eterodosso come dicevo si ispira molto a pomponazzi e la sua idea di aristotelismo si condensa soprattutto nella concezione della natura per questo motivo il filosofo di taurisano può essere in qualche modo associato ai grandi naturalisti panteisti italiani come bruno campanella bernardino telesio il movimento libertino a cui vanini viene solitamente associato sorge dalla pesante situazione creatasi con la controriforma tutti i libertini muovono dal considerare le religioni come puri e semplici fatti naturali che debbono essere spiegati senza appellarsi ad alcunché di estraneo alla natura i libertini muovono da queste basi che definiremo naturalistiche per aggiungere a una strenua difesa dell'ateismo in molti casi per farsi beffa del dogma e della morale cristiana in questo senso deve essere letta anche l'opera anfiteatrum di vanini un'opera che solo apparentemente mira a difendere il dogma cattolico in realtà tra le righe vi è una evidente canzonatura del verbo cattolico vanini nell'anfiteatrum espone le sue teorie presentandole non come proprie le espone invece presentandole come se fossero state apprese da un immaginario miscredente addirittura finge di essere scandalizzato da quelle teorie che intanto però espone la pratica della simulazione della dissimulazione è al centro delle opere di vanini che lascia passare i propri messaggi fingendo che siano esposti da un miscredente rispetto al quale anzi lui finge di essere scandalizzato l'opera più importante di vanini è tuttavia il de admirandis in quattro libri costituito da 60 dialoghi oggi in realtà sono 59 in quanto il trentacinquesimo è andato perduto nell'opera de admirandis si sviluppano le discussioni sulla natura in particolare viene sviluppata in forma dialogica nella forma di un colloquio tra lui stesso nella veste di divulgatore del sapere e un immaginario alessandro che si mostra sbalordito di fronte al grande sapere dell'amico e lo sollecita a spiegare i misteri della natura e dell'uomo l'opera il de admirandis rappresenta una critica al pensiero degli antichi e una divulgazione delle nuove teorie scientifiche religiose della modernità si ispira all'amato pomponazzi di cui diceva e rifiuta l'immortalità dell'anima tema squisitamente di pomponazzi ma si ispira anche a macchiavelli che viene definito il principe degli atei per cui tutte le cose religiose sono false e sono finte dai principi per istruire l'ingenua plebe affinché dove non può giungere la ragione almeno conduca la religione ecco questa tesi è sposata in pieno da vanini vanini accetta l'idea di dio come ente sommo ma identifica il divino con la natura e per questo la legge divina in realtà non è se non la legge naturale vanini respinge l'idea della creazione del mondo il mondo è eterno governato da leggi immutabili e rifiutando l'idea dell'immortalità dell'anima critica aspramente i dogmi della religione cattolica in particolare della religione respinge pressoché tutto anzi è convinto che sia lo strumento utilizzato dai potenti per soverchiare le masse respinge i miracoli che sono semplicemente frutto della fantasia umana e cerca di confutare il dogma della volontà di dio se dio vuole salvare gli uomini allora il diavolo vuole che questi si perdano dunque per tutti i peccatori mortali gli eretici e i miscredenti essendo persi si è compiuta la volontà del diavolo e non quella di dio criticando aspramente il dogma della creazione giunge addirittura in alcuni passi della sua opera a ipotizzare una discendenza tra uomini e scimmie anticipando dunque la teoria evoluzionistica darwiniana ebbene la dottrina di vanini ha suscitato grande interesse sono celebri le pagine della delle lezioni sulla storia della filosofia raccolte dagli studenti di hegel hegel interpreta vanini come un passaggio decisivo per la modernità scrivendo che la vita e l'opera di vanini conclusasi con la morte eroica testimoniano che quando la ragione scopre una cosa non può poi rinnegarla vanini dunque per hegel come punto nodale di passaggio alla modernità non meno di giordano bruno moltissime interpretazioni anche valorizzanti la figura eroica di vanini sono affiorate nella modernità ad esempio ludovico geimonat dice che hanno scarsa validità filosofica i testi di vanini altri hanno provato in qualche modo a rivalutare anche in senso cristiano vanini riportando alla luce un suo scritto in favore del concilio di trento oggi comunque andato perduto in particolare è stato anche letto vanini come un antesignano dell'illuminismo come uno streno difensore dell'ateismo come un avversario delle superstizioni è vero vanini confuta i dogmi cristiani rigetta le superstizioni ma non approda mai all'ateismo preferendo invece parlare di una natura che è in qualche misura l'ente supremo deve essere intesa come ente supremo in ogni caso possiamo dire che vanini inaugura la strada della critica delle delle religioni e del fatto stesso religioso che tanta fortuna avrà in francia penso a gas andy a bayle e poi naturalmente alla successiva nascita del movimento delle lumiere l'illuminismo il pensiero in ogni caso di vanini è una svolta epocale perché segna una rottura con la tradizione è l'emblema proprio come quello di giordano bruno di un eroismo della ragione possiamo dire che vanini proprio come giordano bruno rappresentano al meglio il coraggio della verità a differenza di galilei che compie la biura e tanto le certezze scientifiche si impongono a prescindere dall'atto di fede del proprio scopritore ebbene la filosofia come notava carli aspers è sempre simile a una fede filosofica bisogno della testimonianza e all'occorrenza anche del martirio per questo vanini rappresenta magnificamente l'ideale di una ragione filosofica eroica si potrebbe dire che vanini rispecchia perfettamente il rinascimento eroico italiano solare martirizzato all'occorrenza sul quale ha scritto pagine memorabili hers block nella sua filosofia del rinascimento